Facciamo per finta sia colpa mia Ho dato troppo, ero una bugia Questa è la parte peggiore di me Parte peggiore di me Raga, siccome mancano meno di 48 giorni a Natale Stavo già pensando ai regali Perché chi ha una famiglia numerosa come la mia Equivale a spendere un rene Per risparmiare stavo pensando di provare a vincere qualcosa su Bidu Ad esempio questa borsa Gucci che piacerebbe molto a mia mamma Vinta a 45 euro Oppure questo iPhone 13 da 1TB 20 a 29 Sezione Luxury Quante cose fighissime ci sono per idee regalo Ma anche nella sezione Apple ci sono tutti i prodotti nuovi raga Provare a vincere anche voi raga Per i nuovi iscritti regalo 10 puntate gratis Per provare a vincere su Bidu Cliccate questo Per i nuovi iscritti regalo Per i nuovi iscritti regalo Qualcuno sta barando? Celica ma stai barando? Mauro robo che cosa dici? Mauro robo che cosa dici?